Salve a tutti, io sono Donogamer e benvenuti su The Vanishing of Ethan Carter, uno dei pochi giochi che ho finito tutti in una volta, tanto mi aveva catturato. Il giovane Ethan pare essere in pericolo, qualcuno lo vuole uccidere e in questo piccolo paese si cela qualcosa di soprannaturale, che è addirittura in grado di controllare la mente delle persone. Pazientate fino alla fine e capirete la vera bellezza di questa piccola perla videoludica. Buona visione! Ah, buongiorno anche a lei. Curioso. Uh, questa è la intro da eroe. Beh, bel nome, Paul Prospero. Detective. Ok. Lo scrivevo anch'io da bambino, in verità. Uh, c'è il soprannaturale, ok. Ok. Oh, oh, buongiorno effetti strani. Perfetto, cominciamo bene. Ok. No, come è arrivato troppo tardi? Hmm, ok. Come siamo arrivati troppo tardi? Signor Prospero, anche lei però mi comincia malissimo. Allora, cioè, noi siamo arrivati tranquillamente attraverso una gigantesca galleria. Cioè, non c'è altro per arrivare a Red Creek Valley. Ok, devo fare la minchiata. Corriamo dall'altra parte della galleria. Ok, è molto lungo. Non mi giro perché sicuramente a un certo punto ci fermeremo. No, aspetta. Perché sto arrivando dall'altra parte? Oh, non mi dire che dall'altra parte c'è la... Mi sa che non possiamo uscire. Ok. Siamo esattamente... Ok, da Red Creek Valley non si scappa. Perfetto. Wow. Beh, questo gioco si sapeva che aveva un'ambientazione e una grafica considerevole. Adesso con la Real Engine 4 che è stato rifatto completamente. Wow. Ragazzi, questo con l'ovvisore, con l'Oculus Rift, se ricordo come si pronuncia, dovrebbe dare veramente un effetto incredibile. Le texture sono di qualità altissima. Ah! Bu... Buongiorno. Beni premuto per percepisci. Cioè, no, scusate, eh. Cioè, sono appena arrivato, volevo farmi il picnic e ci sono le trappole da queste parti. Cominciamo malissimo. Percepisci. Mmm. Allora, il nostro detective prospero dovrebbe avere dei poteri soprannaturali. Lui entra in contatto con entità e altre cose. Ho fatto pigliare un colpo. Minchè la taglio là per orsi. Cioè, veramente, ma chi cazzo stava da queste parti? Ma, dicevo, può entrare in contatto con alcune entità che l'occhio umano, che la persona normale, non può vedere. Come vedete, ci mancano alcune parti per riuscire a scoprire questo piccolo mistero. Allora, la trama del gioco è non lineare, quindi avremo il quadro completo generale solo alla fine del gioco. Dovremmo essere pazienti e scoprire tutti i sasselli del puzzle per capire realmente cosa sia accaduto. Minchia, quasi sulle gengive a Red Creek Valley. Non va veramente tanto pericoloso, è sto posto. Quanti pezzi mi mancano ancora? Mmm, mi sa ancora uno. Quindi, mano a mano che noi risolveremo questi enigmi, alla fine dovrebbero darci il quadro completo. E mi sa che non ci piacerà ciò che troviamo. Questo posto è già inquietante di suo! Ok, no, è bellissimo, sto zitto! Mi ha quasi cavato una faccia. Buongiorno! Vediamo se abbiamo tutti i pezzi adesso. E la risposta è... No, ci manca ancora un piccolo pezzo. Devo dire che i rumori ambientali sono splendidi. Dà veramente la sensazione di essere in una foresta al tramonto. Però davvero, sta foresta è un attimino pericoloso. L'usa! Ok! E lei dovrebbe essere l'ultimo pezzo che ci manca. Vediamo un po' se li abbiamo tutti. Uno, due, tre... E... Ok, possiamo... Minchia! Minchia! Cosa diavolo è successo qui? Ma... Buongiorno! Ma noi siamo praticamente in una realtà parallela? O siamo più avanti e indietro nel tempo? No, vabbè, aspetta! Questo deve essere chiaramente qualcuno che si è fatto delle droghe brutte, però. Buongiorno! Minchia sembra di essere su The Solus Project. Anzi no, ci sono più cadaveri qui su The Solus Project. Leggi! Ok. Oh, i papiri! Linfa! Un anziano andava ogni giorno nella foresta per bere linfa dagli alberi. Assolutamente normale, lo faccio anch'io nel tempo libero. Per arrivarci doveva attraversare tante trappole pericolose. Gli abitanti del villaggio credevano che avesse nascosto un amuleto di giada nella foresta. L'anziano, tuttavia, voleva che lo credessero, perché così sarebbero andati nella foresta a cercare il tesoro e non a bere la sua linfa. Ma farsi una birra come tutte le persone normali, no, eh? Una fresca notte d'autunno, qualcuno appicò un incendio nella foresta e il fuoco si propagò fino al villaggio. L'anziano si riparò dal fuoco ricoprendosi il corpo di linfa. Ah, oltre a bersi si faceva anche i bagni, e beh, giusto. Quando tornò al villaggio, trovò le ossa di tutti gli abitanti, si sedette e pianse. Poi trovò il tra linfa da bere. Ma, ma come? Ma, così proprio. Buongiorno, chi è? Ah, il nonno di Ethan, si chiama Ed, ok. Ah, ma come? Il bambino ti scrive le cose e tu lo mandi via, ma che tristezza. Ma no! Quindi questa è una delle opere scritte da Ethan, e siamo tornati nel mondo normale. Quindi il ragazzo aveva regalato una piccola opera di fantasia al nonno. Opera di fantasia, cioè sei un attimino psicotico, eh. E il nonno, giustamente, ha detto, non sta a rompermi i coglioni. E abbiamo altri pezzi. Però curiosa la storia, parlava di un incendio. Oh! Incendio in una casa provoca un morto. Ok, pare che nell'incendio sia morta la nonna di Ethan, Gail Carter, che è la moglie di Ed Carter, il nonno che abbiamo appena sentito parlare. Ah! Curioso che la favola del bambino parlasse di un incendio, e la nonna è morta proprio in un incendio. Andiamo avanti che quel bambino mi porta un attimino di sfiga. Gesù, hanno fatto veramente un lavoro divino con le ambientazioni. So che l'ho detto e so che lo ripoterò per tutto il gioco, ma qui c'è veramente un... Oh mio Dio, i colori di questo tramonto. Oh mio Dio, i colori di questo... Cioè, ok, sono dal tonico, non faccio testo. Però... Wow! Ecco, questo è il tipico gioco in cui c'è una cura maniacale nei dettagli. Tanto maniacale che veramente... Sembra di essere realmente all'interno della foresta di Red Creek Valley. Guardate che cavolo di lavoro che c'è dietro. E a questo punto direi di proseguire verso la... Oh! E questo ponte ha un aspetto molto solido, eh. Si vede che una volta li costruivano tanto bene. Fantastico comunque, no? Davvero? Ah, buongiorno, parla lei? E neanche tanto, un ponte così non è che ispira molto. Ok, ci può stare. Ogni comunità ha i suoi misteri. Ok. Un uomo esperto nel campo del sopranaturale? Questo sarebbe stato l'ultimo? Com'è? Aspetta un attimo, il detective è già all'inizio che ha detto. Era troppo tardi. E adesso dice che è il tuo ultimo caso. Prospero, te mi vedi nel futuro? Cosa... È strano, dice che è il suo ultimo caso. Beh ragazzo mio, se questo è il tuo ultimo caso, almeno sei in un posto che è fantastico! È fin quasi rilassante. Cioè, ok che è tutto distrutto, ma camminare su questo ponte abbandonato e praticamente morto e deserto ha un che di rilassante. Devo dire che provo un certo fascino per i luoghi disabitati. Proprio per il fatto stesso che sei tu e loro e nessun altro, spesso e volentieri. Per dirvi una stupidaggine, ai miei tempi al liceo ci si andava solo la mattina e il momento più bello secondo me era quando ci tornavi il pomeriggio per un motivo o per un altro e non c'era nessuno. E buongiorno treno del 1841, ci possiamo salire? Sangue? Oh! Oh! Bello che ti si fa le domande direttamente. Incidente o omicidio? Manovella. Qua ci serve una manovella. Usata di recente. Ok. Va bene, ho capito, dobbiamo trovare la manovella. Ho capito, ho capito, ho capito. Vado a cercare la manovella. Perché compare la scritta? Aspetta un attimo. Oh! Ok. Ok, la manovella è in cui è la direzione. Ok, probabilmente il... Quando le... Tieni premuto. Ah, bellissimo! Ok, lui ti dà una visione di dove si trova l'oggetto. Signora Prospero, lei ci credo che faceva il detective, così sono bravi tutti. Ok, è vicino a un corso d'acqua, quindi probabilmente dobbiamo scendere verso il lago. Vediamo un po'. Wow! Bellissimo! Cioè, è praticamente tutto distrutto. Spegni, ma ovviamente non funziona perché non c'è la manovella. E questo avanti e indietro. Abbandonato, ma affascinante. No, davvero. Cosa diavolo è successo da queste parti? Beh, di sicuro qualcuno è morto lì col treno. O... O peggio. O peggio. Bellissimo! Ok, è molto decadente, tutto ciò non lo metto in dubbio. Però che figata assurda a sto posto. No, davvero. Penso che questo sarebbe il posto ideale per farsi una camminata in tutta tranquillità e... Cos'è? Un cavo? No, una corda. Estremità tagliata, estremità tagliata e slegata. Beh, di sicuro qua c'è passato il treno e ha tagliato. Niente sangue. Qualcuno si deve essere liberato, quindi. Mmm... Aspetta, ma hanno tipo legato qualcuno per pigliarlo col treno e ha tentato di scappare quel qualcuno. E beh, ma direi che dal sangue non è finita bene. Oh mio Dio... Oh! È perché sta pozza di sangue sicuramente indica qualcosa di bello e puccioso. Il resto del... È un piede! Cazzo, c'è una gamba! Cazzo, non avevo visto. Oh! Vittima trascinata via, strisciata via. No, c'è ancora un killer in libertà? Gambe spezzate. Beh, ce n'è una. No, c'è anche l'altra! Ah! Madonna santa! Provo dolore a guardare sta scena. Cioè, il povero Cristo, secondo me, tipo... Stava tentando di scappare e si è trascinata. Oh mio Dio! Non è che troviamo anche il cadavere dell'individuo? Oh! Quello è il cadavere dell'individuo! Buongiorno! Salve! Lei non la vedo per niente bene. Si fa spalpeggiare? Sangue dalle gambe, sangue da... Eh beh, ciccio, sicuramente è morto per... Cranio fratturato? Oh! Perita di sangue e trauma cranico. Aspetta un attimo. Dopo palpeggio il cadavere, abbia pazienza. Quindi, veramente, il tipo si è trascinato fin qui e qualcuno gli ha spaccato il cranio? Ma per porre fine alle sue sofferenze o per assicurarsi che morisse? Non perché col taglio le gambe sarebbe morto nel giro di pochi secondi, eh? E ora palpeggiamo il signore. Vediamo un po'. No. Ancora ci manca probabilmente qualcosa per risolvere questo mistero. Deve essere come il caso laggiù. Non ancora. Scena della morte disturbata da terzi corrosa dal tempo. Corrosa dal tempo. Effettivamente è strano. Il treno è vecchissimo. Perché diavolo qualcuno avrebbe dovuto far partire un treno del genere? Wow! Eh sì, madonna le passeggiate che non mi farei da ste parti io. Che poi col lavoro che faccio sono un tipo abbastanza sedentario. Non sono un fan dei posti molto frequentati dalle persone. Però penso che se vivrei in un posto del genere, con la fibra per fare i video, ovviamente, a me l'internet non me lo cava nessuno, penso che sarei una delle persone più felici della terra. Mi piacciono questi luoghi un po' disabitate. Allora, siamo vicini al corso d'acqua. In teoria, la manovella potrebbe essere da queste parti. Piano signor prospero che non mi si fa male anche lei. Oh, manovella, buongiorgio. E questa ce l'abbiamo. Perfetto, questa è nostra. Quindi in teoria con questa dovremmo poter far partire il treno. Non possiamo tipo lanciare un sasso sull'acqua? Però mi sa che qua la gente sta morendo come dieci piccoli indiani. La nonna mi è morta in un incendio e quel signore lì mi è morto tranciato dalle gambe. Se qualcuno ha piccato l'incendio dalla nonna e poi ha ucciso sto signore, ma minchia! Lei resti lì e non mi si muova un attimo che risolve i misteri. Allora, con questo vediamo se riusciamo a far partire il treno. Ok, manovella, tac. Gira la manovella, ye ye. No. Ah, devo premere io, non poteva essere. Che tieni premuto il tasto? Minchia, ma cos'è un treno del 1800? Però è partito. Buongiorno, però è partito. Ok. Ok, train simulator 1822. Vediamo un po'. Indietro. Oh, funziona veramente? Ah sì, perché avevo premuto prima l'accensione. Aspettiamo che non piglio nessuno. Vabbè che il signore di prima mi è già morto, quindi a meno che non mi si pari dietro qualcun altro all'improvviso. Dove dobbiamo andare col treno? Scusate, c'ho i dubbi. Aspetta, forse dobbiamo ricostruire la scena dell'accaduto. Sì, ma io come faccio a sapere dove andava il treno? Non si va più indietro di qua. Eh già, là c'è tutto crollato. Ok. Quindi in qualche modo dobbiamo posizionare il treno da queste parti. Ispezione. Vedo un'ispezione che avevo mancato. Aspetta, eh detective. Mi scenda un attimino. Questo ispezione non l'avevamo visto. Erba secca, erba secca. Cosa vuol dire? Una tannica di benza? Benzina e gasolio. Ah, aspetta un attimo. Forma rettangolare, automotrice. Oh, ok, 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 ok. L'automotrice dobbiamo parcheggiarla qui. Hanno riempito il serbatoio dell'automotrice con la tannica di benzina. Ok. Ora dovremmo parcheggiarla in maniera corretta. Ok, non troppo. Vediamo più o meno vicino alla tannica di benzina. Ok. In teoria dovremmo essere giusti. Perfetto, mi ha dato un suono come a dire ok, va bene. Quindi, la motrice era qui. L'hanno fatta partire. Hanno legato il tipo laggiù e fatto partire il treno per ucciderlo. Ma non c'era un modo meno violento per uccidere quella persona. Vediamo se adesso basta. Ok, la macchia si allarga. Ma non abbastanza. Ci manca ancora qualcosa. Beh, seguiamo i binari che probabilmente troviamo qualcosa. Non lo so, cos'altro può mancare? Non entrare. E mi sa che è un po' tardi, eh. Ispeziona? Ispeziona cosa? Roccia, 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 rientranza. Terra fresca. Ah, la roccia con cui hanno ucciso il tipo. Dov'è, dov'è, dov'è? È in quella direzione. Vediamo un po'. Ah, è praticamente qua dietro. Probabilmente qualcuno l'ha buttata qui a terra. Che poi, voglio dire, non ti conveniva buttarla nel lago a sto punto. Aha! Ah, trovata. Ok, abbiamo la roccia e probabilmente va rimessa nel punto giusto. Quindi probabilmente il gioco vuole che noi rimettiamo la scena come era prima del crimine e poi il buon detective riesce a scoprire cosa è successo. Ok. Non è che dobbiamo rimettere le gambe addosso al signore perché se lo bestemmio. Signore, buongiorno, la palpeggio. Vediamo se adesso basta. E... Ok. Ok. Cos'è lo spirito del signore? Buongiorno. Lei mi va in paradiso? Allora, che questo gioco fosse una componente soprannatrice. Oh! Ok. Si stanno... Cosa sono? Io li seguo, eh. Buongiorno. Cos'è diavolo? Wow! Allora, vediamo un po'. Qui c'è qualcuno abbassato. Ok. Qui... Qui hanno cercato di... Chi è? C'è un bambino e il signore che è là. Aspetta un attimo, quindi non è morto... Ah, questo è Ethan! Hanno cercato di legare il povero Ethan. Perché? Qui c'è un vecchio col bambino. Aspetta, ma il vecchio chi è? Il nonno ha tentato di uccidere il signore qui. E Ethan è vivo. Ok. E qui deve essere dove è morto il signore. Ok. E l'ultimo pezzo è qui. Ovvero c'era la locomotiva e il nonno col signore. Ah, ok. Ah, e qua deve essere quando hanno preso il sasso. Cronologia etichetta. Oh, dobbiamo mettere i fatti in un ordine specifico. Mmm. Allora, di sicuro qui stavano complottando qualcosa. Quindi parte 1. Probabilmente hanno legato il ragazzino. Anzi no. Prima hanno legato il ragazzino, molto probabilmente. Poi hanno preso il treno. Ah, poi qui deve essere successo qualcosa. Qui ancora il sasso non c'è. Quindi devono prenderlo probabilmente colpito col coso, la manovella del treno. Poi sono andati a prendere il sasso e gli hanno spaccato in testa. Che voglio dire, non potevi tirargli la manovella sulle gengive, tanto che c'eri. E quindi, per ultimo, lo hanno ucciso. Visualizza, vai! Vediamo se ho sbagliato qualcosa. Ok. Cosa volete distruggere, ragazzi? Oh, qua dobbiamo a che fare con cose sopranaturali. Ah, ci abbiamo le sette locali. Che bella cosa. Ok, il primo punto è giusto. No, ok, il secondo punto è sbagliato. Ok, ho messo la scena del sasso. Vediamo se è quella giusta. Ok, il nonno ha preso il sasso. Oh, cos'è la tomba della vecchia? No, non credo. Ok, quindi il nonno ha ucciso il ragazzo. Ok. Il dormiente. Ok, fa parte tipo di una setta. Au! Minchia! Ok, ha colpito il ragazzo in testa. Ethan si deve essere liberato. Il ragazzo col colpo alla testa è arrivato fino a lì. E il nonno gli è passato! Ah! Addio! Oh, Gesù! Madonna che... Oh! Orribile! Madonna santissima! Il ragazzo poi si è trascinato. Il nonno ha aiutato Ethan. Ok. E credumo che il nonno abbia ucciso il ragazzo. Travis, fermi il ragazzo. Sì, è meglio. Ah! Gesù! Ma chi è questo? È il fratello di Ethan? Minchia che famiglia disastrata! Ok! In teoria l'abbiamo risolto. E la prima parte del caso l'abbiamo risolta. Eh, ok. Deduco che questo sia un buon segno. Perché Travis è tentato di uccidere il fratello però? Sì, è il fratello. E tu mi porti dove? Al prossimo punto del puzzle. Lucina, misteriosa, dove vai? Eh, ciao, è partita. Ok. No, è andata sotto. Aspettate un attimo. Porco, cane veramente che è morte violenta. Anche il nonno però. Un po' di... Ok. Ah, questa è la scena successiva. Malato per cosa? Oh, è tipo un virus. Che diavolo. Oh no, il nonno posseduto scappa Ethan! Ok, ok. E siamo tornati alla realtà. Oh mio Dio. Tutta la famiglia contro il povero Ethan? Beh, il nonno ha provato quantomeno. E l'ha aiutato. Oh. E perché? È vero, è vero. Una volta che sei più anziano, odiare non ti serve più di tanto. Sei arrivato, diciamo, alla fine. Ma penso anche che l'esperienza contribuisca. Ok, ok. I misteri si stanno infittendo. E io vi dico, sto posto lo sto adorando. C'è probabilmente un assassino in giro. Qualcosa di soprannaturale. Molto soprannaturale. Ma penso che la verità ci attenderà nei prossimi episodi. Io spero che The Vanishing of Ethan Carter vi stia piacendo. Quindi non dimenticatevi di lasciare un mi piace. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!